Fu rubata nella notte tra il 5 e 6 febbraio del 75 dal palazzo ducale di Urbino e ritrovata un anno dopo a Locarno in Svizzera. Stiamo parlando della Madonna con il bambino di Piero della Francesca che al di là della storia che si porta dietro rimane uno dei pezzi più affascinanti della mostra dedicata al Melozzo. Il capolavoro di Piero della Francesca che è un capolavoro presente in mostra ma in generale un capolavoro del nostro rinascimento fu un primo tempo trafugato dalla chiesa della Madonna di Santa Maria delle Grazie a Senigallia nel 1873 e successivamente qualche decennio fa nel 1975 fu trafugato proprio dal museo dove poi è tornato e attualmente si trova che è la Galleria Nazionale delle Marche di Urbino. Fu ritrovato l'anno successivo nel marzo del 1976. Si capisce bene perché un capolavoro, un quadro del genere possa suscitare interesse perché è davvero un quadro straordinario. Piero della Francesca è nella sua fase matura, nella fase in cui coniuga le sue ricerche prospettiche e matematiche con l'influenza della luce fiamminga. Un quadro di dimensione domestica che comunque ha anche un grande valore simbolico, sono tanti riferimenti simbolici, il corallo per esempio al collo del bambino che si riferisce alla passione, la rosa che tiene bianca, che tiene il bambino in mano, è simbolo di purezza, la stessa luce che viene dalla finestra fa riferimento proprio al valore salvifico della Madonna. E quindi Piero della Francesca ci fa capire che anche in un quadro di questa dimensione si possono veramente inserire valori simbolici altissimi. Grazie